Eccoci, bentornati su NgoGames e benvenuto a chi è nuovo. Ci troviamo su Nino Kuni, io sono Frixie e oggi andremo a vedere gli scrigni della Selva Dorata. Sto utilizzando il personaggio di Harley, Air Patata, anche perché è così, io già l'ho preso. Ok, allora, andiamola a prendere, ci troviamo quindi nella Selva Dorata, vi faccio vedere dove troviamo gli scrigni. Dobbiamo andare quindi in Record Registro, Forzieri del Tesoro, abbiamo fatto la piana di Grinus e Meridionale, quella orientale e adesso dobbiamo andare nella Selva Dorata. Quindi abbiamo i tre scrigni da fare, quindi andiamo subito a prenderlo. Per gli altri forzieri vi lascio il link in descrizione, mi raccomando andatele a recuperare. Allora, ci troviamo quindi al Campo delle Fate, vi faccio vedere la strada. Allora, eccoci qui. Qui si trova il primo scrigno, ci dobbiamo naturalmente arrivare. Apriamo lo scrigno e vediamo il contenuto. Andiamo a prendere l'altro scrigno, qui troveremo anche il punto di interesse, quindi se non l'avete preso mi raccomando andatelo a prendere perché vi aumenterà il PDC. Andiamo a prendere il secondo forziere, ci troviamo sempre a Campo delle Fate, apriamo la mappa e ci dobbiamo recare praticamente al Villaggio delle Fate. Quindi adesso ci spostiamo. Andiamo a prenderlo. Eccolo qui. Per arrivare a prendere lo scrigno dovete fare esattamente quello che faccio io. in corsa, mi raccomando. Dovete prendere l'aria in corsa e saltare proprio in quel punto perché se ci arrivate e non correte non riuscite poi a saltare sopra al masso. Voila, ci siamo riusciti. Dovete fare un po' di prove. Ora prendiamo il forziere e vediamo il contenuto. Perfetto. Allora, naturalmente per i salti come avete visto siamo un po' impazzite, quindi cercate di non demordere, saltate, prendete l'aria in corsa, saltate, cercate di trovare proprio il punto esatto di dove salta, quindi fate più prove possibile finché non ci riuscite. Ma non ne mordete che prima o poi riuscirete a saltarci sopra. Vi faccio vedere la strada per il forziere. Si troverà proprio qui. Dobbiamo salire sopra. Ok, naturalmente fate un po' di prove con i salti perché non salta sempre. Perfetto. Arly si raccontenta che prendiamo un po' di roba per migliorare l'equipaggiamento. Ci troviamo al campo delle fate. Vi faccio vedere adesso i punti panoramici. Vi apro la mappa. Questo ve l'ho fatto già vedere. Andiamo a vedere dove sono situati gli altri due, quindi questo punto e quest'altro punto. Ve li faccio vedere velocemente. Questo è un punto che è più precisamente questo, quello che si trova qui. Ora vi faccio vedere il terzo. Per vedere questo punto panoramico vi conviene partire dal villaggio delle fate, quindi partiamo direttamente da qui. Eccolo qui, ecco l'ultimo punto panoramico. Mi raccomando non dimenticate di prenderli perché comunque vi aumentano il PDC. Adesso andiamo a riscattare dal menu le ricompense dei forzieri che abbiamo appena preso. Quindi andiamo sempre in record, registro, forziere del tesoro, selva dorata e qui infatti ci segna che dobbiamo riscattare i nostri premi. Ok, la ricompensa per questo obiettivo è una fragranza acutizzante. Discutiamola. Ci sono le ricompense naturalmente anche per i punti panoramici. Harley per la selva dorata li ha già riscattati. Non ricordo assolutamente però il premio che dava. Quindi prendete i punti e riscattate anche questo premio. E scrivetemi nei commenti quindi qual è il premio in modo da farlo sapere poi anche a tutti gli altri. Detto questo lasciate il like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti che usciranno sul canale. Vi ringraziamo per il tempo speso in nostra compagnia e vi diamo appuntamento ad un prossimo video.